Abbiamo ricevuto questa notte la bozza che come è stato già detto non tiene in alcun conto le nostre posizioni ma nemmeno quelle concordate in conferenza delle regioni che mi sembravano tutte molto intelligenti e apprezzabili e questa cosa è veramente triste perché i sentimenti negativi rispetto a queste scelte stanno arrivando, gli effetti li sentiamo e c'è un grande disappunto perché questo modo di fare crea un danno al nostro territorio enorme. Noi siamo un territorio di fatto di piccole realtà, di piccoli comuni, pensate che solo 15 comuni superano i 20.000 abitanti quindi la penalizzazione sulla mobilità intercomunale è davvero tanta. Inoltre i ricongiungimenti familiari per noi saranno un problema molto sentito perché tra i piccoli comuni il giorno di Natale non ci si potrà spostare, questo creerà un impatto sociale molto alto e voglio dire anche a questo punto una cosa perché siamo diventati zona arancione ingiustamente. Da un momento all'altro i sudati RT che già cominciavano a scendere e l'RT da noi cominciava a scendere perché comunque avevamo fatto delle ordinanze che mettevano in sicurezza già la nostra popolazione. Il fatto di essere diventati zona arancione non ha in alcun modo cambiato la curva che stava già scendendo da prima ma ha soltanto danneggiato ingiustamente le attività economiche e quindi credo che con questa prospettiva di mancanza di dialogo e di confronto che è soltanto formale ma di fatto non c'è nulla di sostanziale quando un governatore o addirittura tutta la conferenza fanno delle proposte congiunte di fronte a questo modo di procedere io sono assolutamente concordo con chi mi ha preceduto che non è opportuno esprimere alcun parere perché è evidente che del nostro parere non interessa a nessuno